Stasera alle ore 19 in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, Katia Ricciarelli presenterà il suo libro da donna a donna, La mia vita melodrammatica, edizioni PM. Organizzato dalla libreria Mondadori di Agropoli con il patrocinio del comune, l'incontro sarà coordinato da Marco Carrozzo, coautore del libro. Il testo è un racconto a cuore aperto fra sorrisi, lacrime e abbondanti spruzzate di genuina autoironia. Katia Ricciarelli ha scelto dieci memorabili figure femminili dell'opera lirica per ripercorrere la sua straordinaria parabola esistenziale, gli amori appassionati, la sfolgorante carriera. In questa vita che sembra un melodramma ci sono il ricordo di una famiglia poverissima e di un padre che l'abbandona appena nata, le difficoltà degli inizi e la passione per il canto che giustifica qualunque sacrificio per pagarsi il conservatorio. La cantante parla della sua vita di ieri e di oggi e si rivolge non solo alle donne ma a tutte quelle persone che nella fatica del quotidiano cercano quella serenità che, come lei stessa scrive, ti permette di trascorrere le giornate con il sole nel cuore.